Arena già prenotata si cerca soluzione per i playoff della WL. Smantellata vendita illecita di integratori indagati anche a Pesaro. Pesaro città cantiere fra rotatorie e nuovi supermercati. La pesarese Domenica Ercolani è la donna più longeva d'Italia. A Villa Catani Steward torna a Pesaro Wine Festival. Buona serata e benvenuti al nostro telegiornale. Oggi è martedì 10 maggio e come sempre apriamo parlando con gli argomenti che fanno più scalpore in questo periodo. Allora andiamo a parlare dei playoff di basket della Carpegna Prosciutto Pesaro che stanno diventando un vero e proprio caso spinoso. La Vitre Friguarena infatti era stata precedentemente assegnata per un'importante convention ma la città non vuole rinunciare ai playoff della WL. Vediamo questo primo servizio. Ribadisco che gara 3 dei playoff si giocherà a Pesaro. Può capitare una concomitanza di eventi ma il basket e la WL hanno la priorità. Parole del sindaco Matteo Ricci che anche oggi attraverso i propri canali social si è esposto a garanzia della disputa di un playoff della Carpegna Prosciutto Pesaro che in poche ore rischia di passare dal massimo giubilo alla sensazione di essere scivolati su una buccia di banana. Ma facciamo ordine. La Lega Basket ha ufficializzato le date dei quarti di finale playoff di Serie A. La WL giocherà le prime due gare in trasferta sul campo della Virtus Segafredo Bologna. Si comincia domenica 15 maggio alle 21, dopodiché gara 2 martedì 17 maggio alle 20 e 30 e poi gara 3 a Pesaro giovedì 19 maggio alle 20 e 45. Eventuali gara 4 e gara 5 sabato 21 e lunedì 23 maggio. Peccato però che quelle giovedì 19 maggio sia una data minata dalla concomitanza della convention nazionale di Tecnocasa che porterà circa 9.000 persone in città. La convention si tiene dal 20 al 22 maggio ma gli allestimenti andrebbero organizzati già questa settimana. Insomma c'è stata una sottovalutazione della possibilità di concomitanza basandosi sul fatto che i playoff di Serie A erano materia estranea alla WL da 10 anni. Più o meno lo stesso lasso di tempo in cui Tecnocasa fa visita a Pesaro per le sue convention. Ora le parti coinvolte, Comune, Aspes che gestisce la Vitrifico Arena e Tecnocasa si metteranno a tavolino per un dialogo dal quale uscire con la soluzione più indolore possibile. In ballo però pende il rischio di una sostanziosa penale per l'annullamento della convention. In casa WL si resta alla finestra dell'evolvere della situazione. Le parole di Ricci dovrebbero astenersi dal sondare campi alternativi per i playoff quali Rimini o Ancona. Impossibile invece per la Lega Basket pensare a date alternative. Ed ora passiamo alla cronaca e ad un'operazione della Guardia di Finanza di Rimini che vede figurare anche alcuni pesaresi fra i 13 indagati dell'illecito modus operandi di una società di vendita di integratori alimentari. Ci sono anche alcuni pesaresi fra i 13 indagati dell'operazione della Guardia di Finanza di Rimini denominata Cheope che questa mattina ha fatto scattare il sequestro di 7 milioni e 300 mila euro fra immobili e disponibilità finanziarie conseguente allo smantellamento di un sistema di vendita piramidale di integratori alimentari. Un sistema basato sul reclutamento di nuovi clienti venditori che viola la normativa italiana. La società in questione è la V Italia ai cui vertici figura un 35enne san marinese a capo di 13 persone oggi indagate per lo stesso reato. Nei guai un altro san marinese, un romano, un foggiano e nove residenti tra Rimini, Cesena e la provincia di Pesaro. Le indagini partirono ben sette anni fa e hanno permesso di individuare in provincia di Rimini i vertici della rete di vendita della società con sede legale a Milano specializzate in integratori alimentari prodotti da una multinazionale statunitense. La vendita avveniva con il sistema del porta a porta mentre il reclutamento dei venditori avveniva sui social network e nel corso di convention organizzate. La società nel 2020 fu anche al centro di un servizio tv di striscia la notizia in quanto le vendite ai consumatori finali generavano un ingente debito IVA mai versato nelle casse dell'erario italiano. Secondo le indagini nella rete della società sarebbero finite almeno 10.000 persone. Molte di queste figuravano come persone in cerca di prima occupazione mentre altre illuse dal progetto avevano addirittura abbandonato la loro precedente attività lavorativa e sono proprio queste le reali parti offese dal sodalizio criminale. Le quote di adesione allo schema andavano da 500 a 1.000 euro creando un sistema che ingenerava false speranze di guadagno in coloro che partecipavano partendo da cifre di accesso sproporzionate al reale valore dei beni acquistati. Continuiamo con la cronaca perché sono finiti in manette tre pesaresi diciottenni due dei quali di origine egiziana che domenica sono stati trovati in possesso di ben tre chili di hashish dai carabinieri di Orte. Decisivo il controllo al casello autostradale laziale dell'arma aiutata da un'unità cinofila che ha scoperto diversi panetti di droga nell'automobile dei giovani che si erano approvvigionati a Roma con presumibili intenzioni di spaccio nel pesarese. I ragazzi sono stati rilasciati a piede libero in attesa del processo fissato al 23 maggio. Continuano a Pesaro le modifiche per quanto riguarda la viabilità cittadina dopo i lavori che da settimane accompagnano via Fratti da ieri sono anche partiti i cantieri per rendere definitiva la rotatoria di largo tre martiri. Si tratta di uno svincolo strategico della città fra zona Soria e Statale che da tre anni è stato allestito in via sperimentale con l'utilizzo dei New Jersey. Ora c'è un investimento di 400 mila euro per completare la rotatoria con illuminazione, aree verdi e messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. I lavori dovrebbero essere completati entro settembre. E continuiamo a parlare di lavori pubblici che stanno modificando la città di Pesaro. Ieri ad esempio vi abbiamo mostrato il via al cantiere del nuovo parcheggio a servizio di cimitero e mercato a San Decenzio. Nel prossimo servizio invece ci spostiamo in zona Celletta dove sta per partire la costruzione di un nuovo supermercato in un'area da anni occupata da capannoni in degrado. Cambia ancora il profilo della città nelle zone fra Celletta e Santa Veneranda. Dopo anni di abbandono i capannoni fatiscenti all'angolo fra via del Novecento e via Bonini sono stati demoliti la scorsa settimana. Nella settimana corrente si sta infatti pulendo l'area cantiere dalle macere per preparare la costruzione di un nuovo supermercato. Un intervento che da un lato riqualifica un'area degradata e dall'altro apre le strade ad una nuova struttura di media distribuzione di 2500 metri quadrati. Un'opera che fu approvata da un consiglio comunale di otto mesi fa senza voti contrari. Questo perché l'intervento non riguarderà solo la realizzazione di un supermercato. L'azienda privata che acquista l'area avrà infatti a suo carico una riqualificazione del valore di 110.000 euro per parcheggi e migliorie alla viabilità ciclabile e pedonale come scomputo di oneri di urbanizzazione. A sorgere su quest'area sarà un sì superstore ed è stato già oggetto di discussione nei mesi scorsi il fatto che si tratterà del terzo supermercato fra media e grande distribuzione collocato su via del Novecento. Il primo fu l'AEO ora diventato Family Market, da qualche anno si è aggiunto il Conad Superstore ai margini dell'interquartieri e dal capo apposto della via ora sorgerà un terzo supermercato, probabilmente già nel 2023. È pesarese la donna più anziana d'Italia. Si tratta di Domenica Ercolani che compirà 112 anni il prossimo 3 luglio. A dare la notizia del record di longevità è stato il sito Supercentenare d'Italia, dopo che due giorni fa è venuta a mancare a 112 anni la bergamasca Angela Tiraboschi che deteneva questo primato. Nata nel 1910, Domenica Ercolani fece notizia già lo scorso anno per essersi sottoposta al vaccino anticovid all'età di 110 anni. Si rafforza il gemellaggio fra Pesaro e Lubiana. Marco Perugini, presidente del Consiglio Comunale, è stato presente nella capitale slovena in occasione di importanti eventi istituzionali per rafforzare il legame con Lubiana per progetti di mobilità sostenibile, rigenerazione urbana, internazionalizzazione del brand di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Parte domani, mercoledì 11 maggio, il primo degli eventi culturali che accompagneranno Pesaro verso il Marche Pride, dedicato ai diritti della comunità LGBT che la città ospiterà il 18 giugno. Domani alle 18 nella sala del Consiglio Comunale si terrà l'incontro dal titolo La libertà di essere e l'arte per dirlo, durante il quale sarà proiettato il cortometraggio XY, ritratto sensibile di una giovane donna alla scoperta della propria identità sessuale. Ed ora cambiamo argomento per questa estate 2022, infatti passano da 16 a 17 le bandiere blu assegnate alla nostra regione Marche con l'aggiunta appunto di Porto Recanati che entra nella top 5 italiana per la qualità delle acque del suo mare. Per quel che riguarda la provincia di Pesaro Urbino sono confermate le bandiere blu a Gabice Mare e Marotta e anche a Pesaro per quanto riguarda Ponente, Levante, Sottomonte e a Fano per il litorale Nord, Torrette e Sassonia. Ed ora andiamo agli eventi che ripartono nel nostro territorio, degustazioni, seminari e approfondimenti sulle eccellenze vinicole. Questo ed altro sarà il Pesaro Wine Festival appuntamento che torna a Villa Catani-Stewart dal 13 al 15 maggio. L'inaugurazione a Villa Caprile, lo svolgimento a Villa Catani-Stewart. Saranno queste le due location per i tre giorni di Pesaro Wine Festival che tornerà ad ospitare centinaia di appassionati di vino da venerdì 13 a domenica 15 maggio. L'evento vinicolo, arrivato alla sua quinta edizione, è stato organizzato dall'Associazione Pesaro Vino Cultura godendo anche per quest'anno del patrocinio del Comune di Pesaro. Quest'anno, quindi il pre-festival di venerdì 13, è un'idea che abbiamo avuto di organizzare all'interno della scuola agraria, all'Istituto Cecchi qua di Pesaro, un seminario didattico con tre storici produttori del vino artigianale naturale che verranno qua a Pesaro invitati da noi, ospitati da noi, proprio per organizzare una tavola rotonda anche con qualche docente, con i migliori alunni della scuola agraria e tratteremo l'argomento dell'artigianalità del vino, l'esperienza di oggi per guardare al domani. I giorni di sabato e di domenica sono i due giorni appunto dedicati alle degustazioni, alla fiera, quindi anche il privato, il cittadino, il singolo avventore potrà acquistare volendo anche una bottiglia all'interno dell'area di fiera. Siamo arrivati intorno alle 45, credo 50 aziende, adesso stiamo chiudendo proprio i numeri proprio in questi giorni e ci saranno presenti anche quattro realtà del food che ci porteranno prodotti di olive, formaggi, ostriche, salumi e poi ci sarà come sempre a coronare la parte food il furgoncino con Carlo Betti all'esterno dell'area di fiera. Abbiamo organizzato anche una parte musicale alla chiusura della fiera, quindi intorno alle 20-20.30 con Gio Castellani e Daniele Mazzucchelli in quartetto e ci sarà la premiazione dell'amico Paolo Angeletti che è il premio che è nato con il nostro festival e verrà dato dalla giuria popolare, tutti voteranno il vino che hanno preferito e noi premieremo le prime tre aziende più votate. Nella giornata di domenica, quindi nella chiusura del festival, assegneremo il premio dedicato a Luca Rossini che è il nostro presidente che purtroppo è venuto a mancare prematuramente e sostituito oggi degnamente dall'amico Maurizio Bartoli, ma che noi vogliamo sempre ricordare perché Luca è stato uno dei grandi fondatori di questa manifestazione e dell'associazione Pesero Vino Cultura. E chiudiamo quest'edizione del nostro telegiornale parlando di motori e del campionato italiano velocità moto 3 in cui Rossini TV è partner del team MR Racing. In questo servizio quindi andiamo a scoprire come è andato il weekend di gare a Vallelunga. Al Taruffi di Vallelunga è andato in scena il secondo atto del campionato italiano di velocità moto 3 in cui Rossini TV è media partner dei piloti del team MR Racing che nell'occasione hanno raccolto meno rispetto al potenziale mostrato dalle prove. Matteo Morri durante il primo turno di qualifiche stacca un buon ottavo tempo ma dopo pochi giri del secondo turno un guasto lo fa slittare undicesimo. In gara 1 parte a fatica e si ritrova a navigare in quattordicesima posizione ma giro dopo giro e sorpasso dopo sorpasso comincia a lottare per l'alta classifica. Termina la gara sesto lottando fino all'ultima curva col quinto classificato. In gara 2 dopo una bella partenza Morri viene toccato da un avversario, un contatto che determinerà la sua caduta pochi metri dopo. Matteo Perore sale in moto e si prodiga in una rimonta che dall'ultima posizione lo riporta a tagliare il traguardo al decimo posto. In gara 1 da undicesimo ho finito sesto dopo una bella lotta con altri piloti e invece in gara 2 sono caduto al secondo giro, stavo rimontando però la mia gara è stata compromessa, sono ripartito e ho chiuso decimo. Abbiamo fiducia per le prossime gare perché il passo per restare davanti col gruppetto davanti c'è, quindi siamo contenti e fiduciosi per le prossime. Giampaolo Di Vittori invece dopo una prima qualifica da undicesimo si migliora nel secondo turno fino ad agguantare un'importante sesta posizione. In gara lotta col gruppo dei migliori intorno alla quinta posizione ma un po' troppa foga lo porta ad un errore di guida che si traduce in una brutta caduta e al ritiro. Al centro medico non riscontrà nessuna conseguenza particolarmente grave se non una forte contusione ad anca, gamba sinistra e collo. Dopo le cure del terapista del team Giampaolo riesce a presentarsi alla partenza di gara 2 in cui di nuovo parte bene e dopo pochi giri si ritrova in quarta posizione. La fatica e i dolori del giorno prima però si fanno sentire costringendo Di Vittori a un lento calo di ritmo. Il dolore alla gamba gli impedisce di cambiare marce correttamente e questo lo porta ad imprecisioni e a scivolare a terra per la seconda volta a pochi giri dal termine. Avevo un buon feeling con la moto, la sentivo molto bene ma la voglia di rimontare ed andare a prendere il gruppo di testa era tanta e quindi sono andato un po' oltre il limite. In gara 2 invece ho lottato per il terzo posto imponendo il ritmo e guidando per dieci giri il gruppo degli inseguitori. La mia squadra in tutto il weekend mi ha dato una moto fantastica solo che ad un certo punto durante la gara per via della caduta del giorno precedente ho iniziato ad accusare un gran dolore alla gamba e questo dolore si è fatto sempre più forte e mi ha portato a commettere un errore. Prossimo appuntamento del campionato italiano Moto3 il 18-19 giugno nel circuito Toscano del Mugello. E allora davvero complimenti a questo team e in boccalupo per le prossime gare e adesso invece vi vado a ricordare che questa sera parte il nostro format di successo qua la Zampa seconda edizione lo troverete per i prossimi martedì tutti i martedì alle 21.20 quindi oggi la prima puntata. Protagonisti sono sempre Jack che lo vedete qui nella foto, Antonio Astuti e la piccolina, questa cagnolina meravigliosa che vedete che ci farà compagnia e sarà presente in tutte le puntate di qua la Zampa. Parleremo di adozioni, parleremo di canile, di gattile, di questo e tanto altro per raccontarvi il mondo dei nostri amici animali. E poi vi ricordiamo che a partire da venerdì torna anche qui uno dei primi programmi che Rossini TV ha prodotto quando è nata questa emittente, si chiama Vox Pop, la voce dei pesaresi, infatti troverete ogni settimana degli argomenti di dibattito pubblico sui quali interpellare appunto i pesaresi e sapere quindi cosa ne pensano di certe tematiche della città. Quindi l'appuntamento è tutti i venerdì alle ore 19 e poi queste sono tutte le repliche che potete trovare di ogni puntata. E chiaramente l'informazione su Rossini TV torna domani con la nostra rassegna stampa alle 7.20 in diretta sia sul canale 80 sia sulla nostra pagina Facebook. Adesso per voi il meteo, buona serata a tutti. Grazie. Grazie.